ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale cantare in libertà siamo oggi qui in compagnia di Elena Tugliani ciao a tutti che ci aiuterà in questo spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte e la canzone che vi insegneremo oggi è bene ragazzi questa canzone si compone di quattro accordi sia nella strofa che nel ritornello gli accordi sono do diesis minore quindi se questo dove ci sono i due tasti neri a sinistra è il do questo tasto è do diesis mi sol diesis forma il do diesis minore poi c'è il si maggiore quindi se questo è il do accanto abbiamo il si si re diesis fa diesis forma il si maggiore poi c'è il la maggiore quindi andando ancora indietro do si la la do diesis mi forma il la maggiore ed infine il sol diesis quindi la sol sol diesis si naturale re diesis forma il sol diesis minore e la canzone fa così grazie a tutti bene come abbiamo visto sia nella strofa che nel ritornello gli accordi sono sempre gli stessi e si ripetono per due battute per ogni accordo poi c'è una parte che è un ponte il bridge dove gli accordi c'è un accordo nuovo che è il fa diesis minore e si ripeterà fa diesis e sol diesis minore per quattro battute ogni accordo e la parte è questa e poi si ritorna ancora nel ritornello e gli accordi saranno sempre gli stessi come prima bene ragazzi come avete visto anche questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte io ringrazio Elena per averci dato una mano e vi diamo appuntamento alla prossima puntata vi dico inoltre che in descrizione troverete il link su dove trovare il testo con gli accordi e in più due link su come imparare gli accordi al pianoforte di puntate che sono presenti su questo canale ciao alla prossima ciao ciao